E' un'ora di ripresa, interrompila pure, stoppala e poi riprendi, capito? No, io voglio vedere tutto. Mi sa che mi fa le domande. Ma guardi! Mi dirai che mi sono colpato. Ma guardi che vuoi! Ma non mi ha mai mandato, non mi hai mai dato. Ma che paranoia, ho tempo. Ok, vai! Sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.